Bentornati su CIPER TV. Oggi è il 17 gennaio 2019 e ho per voi due parole sumo deadlift. Infatti di questo esercizio dovremo costruire tre ripetizioni pesanti. A seguire un 4 time, 50 walking lunges, 20 dumbbell deadlift, 50 walking lunges, 18 dumbbell from squat, 50 walking lunges, 15 hand clean, 50 walking lunges e per chiudere 12 push jerk. Come al solito la grafica qui di fianco contiene pesi e scalature. Noi ci vediamo domani per l'ultima puntata di questa settimana. Buona giornata!